Buongiorno, buongiorno, oggi è mercoledì 13 gennaio, rassegna stampa in breve di video 33 cielo sereno sull'intero territorio alto tesino, Massimo Moro ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, legge elettorale Blitz di Steger, il capogruppo SVP dice Bolzano, solo 35 consiglieri, controversia con la provincia, contributi pubblici, circolo la comune sconfitto d'altare, ricordiamo che sono bloccati 239 milioni di euro, sanità arrivano altri fondi, 32 milioni di euro per i punti nascita, assunzioni finanziate e anche il rinnovo del sistema informatico, la cronaca cura dell'Alto Adige, caccia ai voti dei contadini aeroporto sul referendum, sono loro lago della bilancia, omicidio del Colosciani in pieno centro, due testimoni hanno visto il presunto assassino, cade una frana, sfiora una casa, paura a Vandois di sotto per una famiglia e poi Guido Rispoli si appresta a lasciare Bolzano, la procura generale di Campobasso potrebbe essere il suo nuovo incarico. La cronaca cura in lingua tedesca del quotidiano Dolomiten si si occupa dell'omicidio in pieno centro a Bolzano, la polizia sarebbe sulle tracce del presunto responsabile. Chiudiamo con il quotidiano Tagest Zeitung, una lunga intervista a Franz Stafler riguardo la vendita dell'hotel Grifone, il futuro, quali sono i nuovi progetti a carattere imprenditoriale. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video33.